Come ogni mercoledì apriamo il nostro giornale con l'udienza generale. Quest'oggi il Papa ha proseguito la Catechesi sull'Eucaristia e a questo proposito ha ricordato che Gesù non si stanca di perdonare, ma siamo noi a stancarci di chiedere perdono. Allora, ascoltiamo uno stralcio delle parole del Papa tratto proprio dall'udienza di questa mattina. La celebrazione della Messa, di cui stiamo percorrendo i vari momenti, è ordinata alla comunione. Nella Messa, dopo aver spezzato il pane e consacrato, cioè il corpo di Gesù, il sacerdote lo mostra ai fedeli, invitandoli a partecipare al convito eucaristico. Conosciamo le parole che risuonano dal Santo Altare. Beati gli invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Ispirato a un passo dell'Apocalissi, che dice così, Beati gli invitati al banchetto di nozze dell'Angelo. Dice nozze perché Gesù è lo sposo della Chiesa. Questo invito ci chiama a sperimentare l'intima unione con Cristo, fonte di gioia e di santità. È un invito che rallegra e insieme spinge a un esame di coscienza illuminato dalla fede. Se da una parte, infatti, vediamo la distanza che ci separa dalla santità di Cristo, dall'altra crediamo che il suo sangue viene sparso per la remissione dei peccati. Tutti noi siamo stati perdonati nel battesimo e tutti noi siamo perdonati o saremo perdonati ogni volta che ci accostiamo al sacramento della penitenza. E non dimenticatevi, Gesù perdona sempre. Gesù non si stanca di perdonare. Siamo noi a stancarci di chiedere perdono.